Una vera e propria bomba ecologica per l'intera comunità casertana sulla quale è calato un silenzio assordante. Stiamo parlando della discarica di Loutero, emblema del disastro ambientale della Campania, che nel corso di 30 anni ha inghiottito oltre un milione e mezzo di rifiuti. E sebbene sia concreto il rischio che il percolato stia continuando ad inquinare la falda acquifera, si attende ancora l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza. Eloquenti a tal riguardo le immagini che in esclusiva vi proponiamo dopo esserci calati in uno degli invasi dell'ex Cava, che sorge al confine con i comuni di San Nicola la Strada, San Marche e Vangeriste e Maddaloni. Gli unici che continuano a far sentire la propria voce, denunciando uno scempio che non è uguale, sono gli attivisti dell'associazione Terra Nostra, di cui è presidente Pasquale Costaiola. De Loutero ha delle particolarità e delle vicende giudiziarie complesse, perché fu sequestrata, poi apparteneva al consorzio, il consorzio è stato chiuso, adesso è di spettanza della provincia con un ballottaggio recente con il comune. Di scarica che però attende ancora di essere bonificata. Col passare del tempo c'è stato un abbancamento di terra e di altro con una sovraesposizione di vegetazione che non rende quello che invece è il problema, perché i rifiuti sono tutti sottoterra e in una grossa profondità per cui il problema è piuttosto sotterraneo che emergente. E però di questo è consapevole anche l'autorità che comunque in questo momento sta facendo dei carotaggi, dei monitoraggi per una possibile bonifica. Però per il momento nemmeno una bezza in sicurezza. Noi l'abbiamo detto storicamente dal 2006. Ancora non si è mai proceduto perché le guaine, come appare anche dal filmato, sono lacerate ma lo sono dall'inizio. Non ci sono mai stati degli strumenti per la ricezione del pergolato che comunque è sotto, lo ripetiamo.